Il progetto che vedete laggiù, anzi lassù, è il regista della sciagura, Simone Rota, che sta lavorando alla cremente. La musica non è quella che sentirete stasera, la scenografia non è quella che vedrete stasera, il secchio non è quello che ci sarà stasera, il locale invece è quello che ci sarà stasera. Quanti siete? Quanti siete? Quanti siete? Oh! Troppi! Troppi! Che vi dico io adesso, tutta sta gente, che eravate convinti che ci fosse caposella stasera? Pensavate di essere la Leopolda, che vi dico adesso? Facci godere, impegnativo!